Come stanno le imprese in provincia di Ravenna? Sono uscite dalla crisi o ci sono ancora dentro? Cosa dice il primo semestre del 2010? Ascoltiamo Antonello Piazza, rappresentante sindacale di Confartigianato. Quali sono i trend economici, i marker per quanto riguarda le imprese artigiane in questo primo semestre del 2010 e quali sono le vostre prospettive per il restante anno 2010? Noi pochi giorni fa abbiamo presentato la nostra indagine congiunturale a livello regionale dove si nota una inversione di tendenza positiva ma con due momenti diversi, cioè l'Emilia sente di più questa inversione di tendenza la Romagna un po' di meno. Su per quanto riguarda la provincia di Ravenna noi accusiamo nel primo semestre 2010 dei nuovi ridimensionamenti sia per quanto riguarda la produzione di domande siamo attorno al meno 15% e sul fatturato attorno al 20%. C'è da tenere presente che anche nell'occupazione, ancorché ci sia un calo del 4,7%, questo si sta molto ridimensionando. Non a caso nel secondo semestre 2010 le previsioni dalla nostra analisi congiunturale regionale portano ad un aumento dell'occupazione del 6%, quindi un'inversione di tendenza che riteniamo sia un aspetto molto positivo. Come un aspetto positivo dalla nostra indagine sia gli elementi in aumento per quanto riguarda la produzione, il fatturato e gli ordinativi. Va sottolineato un aspetto importante che le imprese, quasi il 25% delle imprese artigiane della nostra provincia ha effettuato investimenti. Questa nostra indagine diciamo che conferme i dati dell'analisi che viene fatta trimestralmente dalla provincia di Ravenna e dalla Camera di Commercio e quindi diciamo che è un chiaro oscuro che speriamo nel secondo semestre diventi sempre più chiaro. Ovviamente c'è un settore che sta, purtroppo gli indicatori lo danno in senso negativo che è il settore delle costruzioni dove il trend invece fa fatica ad avere inversioni di tendenza.